I carabinieri della stazione di Sapri, comandati dal maresciallo maggiore Pietro Marino, nel corso di un servizio di contrasto all'illecita attività di spaccio di sostanza stupefacente, hanno arrestato un quarantenne di torraca, già i domiciliari, ed un nigeriano. I militari dell'arma si erano concentrati, nei giorni scorsi, sul via vai nei pressi dell'abitazione del pregiudicato Francesco Lombardi, dove molti, soprattutto giovani, si recavano per comprare dello stupefacente. Dopo l'ennesimo e chiaro episodio, gli uomini della benemerita sono intervenuti, cogliendo Lombardi in flagranza di reato, mentre cedeva 15 grammi di hashish a due assuntori, per una somma di 120 euro. Dopo un'attenta perquisizione personale e domiciliare, è stato scoperto anche del materiale utile all'illecita attività. Dopo che sono scattate le manette ai suoi polsi, il quarantenne di torraca è stato portato presso la casa circondariale di Potenza. Nell'ambito della stessa operazione, gli uomini del nucleo operativo e radiomobile di Sapri, guidati dal luogotenente Giuseppe Forte, hanno intercettato nei pressi della locale stazione ferroviaria un extracomunitario. L'uomo, identificato nel 24enne Musendek Kolapo Ishola, nato in Nigeria con diversi precedenti penali, è stato sottoposto a perquisizione personale. Aveva addosso un involucro contenente 10 grammi di marijuana ed un ovulo contenente 20 grammi di eroina. Il nigeriano è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente e tradotto anche egli nel carcere potentino.